Beh, ai primi di marzo, quando avevo scritto questa lettera al Corriere, dove di fatto già annunciavo queste dimissioni, poi come ha ben detto lei, c'è stato questo incontro con il Presidente nel pomeriggio e ho deciso quindi di congelare le dimissioni, anche in base al confronto che c'è stato con lui. Ma lui le ha promesso qualcosa? No, 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 non c'è stata una questione di promesse o di aspettative, c'è stato un confronto sulle questioni che avevo anche posto nella lettera, le motivazioni, quindi insomma tutto quello che sta accadendo in Forza Italia, quindi non questioni mie, ma insomma che sono sotto gli occhi di tutti, oltre anche da un punto di vista così programmatico, di contenuto, che c'era già qualcosa che non andava. e il Presidente comunque si è mostrato attento e anche consapevole dei problemi, insomma probabilmente molto più consapevole di tutti noi e poi anche per la situazione che in quei giorni stava vivendo, non dimentichiamo che era proprio a due o tre giorni dalla sentenza, della Cassazione e il nostro rapporto, quello di Sandro in particolar modo naturalmente, ma comunque anche il mio con il Presidente è prima di tutto personale, affettivo, prima ancora che politico e quindi avevamo deciso così di aspettare, di vedere, poi sappiamo insomma fortunatamente c'è stata questa piena soluzione definitiva, per noi è stato un grande sollievo, intanto perché lo ritenevamo assolutamente giusto e poi è finito un incubo per lui, però nel frattempo insomma abbiamo visto tutti quello che sta succedendo in Forza Italia oggettivamente, non è stata una così nostra, una mia considerazione perché mi sono alzata con le paturnie diciamo e le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate, quindi insomma con grande sofferenza perché comunque è stata veramente una decisione. Però se siete nel gruppo misto non andrete nel partito europeo. No, 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 è già stato guardi credo un passaggio veramente molto difficile questo e ora stiamo fermi lì.